Quasi 2000 euro di danni a un'auto parcheggiata nei pressi della piazza principale di San Pietro Altanagro. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e il proprietario della vettura ha denunciato tutti i carabinieri della stazione di Polla. Durante la notte di lunedì, secondo quanto denunciato, un branco di cani randaggi si è accanito contro la sua autovettura. La vicenda è seguita dall'avvocato a Vollaro. Il legale potrebbe rivalersi, o tentare di farlo, sulla amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta. Occorre anche aggiungere che proprio pochi giorni fa l'opposizione, guidata da Piera Romando, ha dato vita a una petizione popolare contro il randaggismo. Sul documento si denuncia che i cittadini sono stati lasciati soli dall'amministrazione comunale. Noi vogliamo, si legge ancora, dare risposte, mantenere fede al proprio programma elettorale e soprattutto restare devoto al patto fatto con i cittadini lo scorso 26 maggio. Ascolto presenza costante sul territorio e tutela da qui la petizione popolare per cercare di contrastare, secondo l'opposizione, il problema del randaggismo.